Ehi! Aiuto! Ci sono degli extraterrestri sul terrazzo! Non si spaventi, signorino, non siamo dei fuori legge. Batman e Robin in persona! Non so chi si nasconde dietro quella maschera, ma so quando ne abbiamo bisogno. E noi abbiamo bisogno di lui adesso. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. E quando si è tirati in ballo, bisogna ballare. Batman, dal primo ottobre, su Fox Retro. Batman, dal primo ottobre.